E' sempre così quando le cose sembrano andare per il meglio, quando ci si vuole bene e ci si ama e non c'è alcuna parete impedimento al compimento della felicità, ecco che si verificano questi fraintendimenti, questi inceppi che lasciano da tutto senza parole, che pregatura potevamo essere felici. E' sempre così quando ci si vuole bene e ci si ama, non c'è alcuna parete impedimento al compimento della felicità, ecco che si vuole bene e ci si ama e non c'è alcuna parete impedimento al compimento della felicità, ecco che si verificano questi fraintendimenti, 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 questi fraintend